Come sapete a me in particolare, come sono un po' a tutta la squadra, qui troviamo la musica, ci piace molto quando il jazz si sposa con la canzone e allora andiamo sul palco, Greta Palettieri insieme a la partizionale dell'unica Andrea Campantino e allora andiamo sul palco e allora andiamo sul palco, Greta Palettieri che ritorna a me lo so si lo so che questa non è certo la vita che assumendo oggi che ritorna a me lo so vedrai 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 for vedrai e non 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 so dire non so dirvi come ma mi che 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 Vedrai, 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 vedrai. Vedrai, 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 vedrai.